Era il 23 maggio del 1992, ben 27 anni fa, quando si verificò la strage di Capaci, attentato esplosivo compiuto da Cosa Nostra per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada a 29, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia, sistemati in tre Fiat Chroma blindate. Oltre al giudice morirono altre quattro persone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato e gli agenti della scorta. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspere Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. L'uccisione di Falcone venne decisa nel corso di alcune riunioni delle commissioni regionale e provinciale di Cosa Nostra, avvenute tra il settembre e dicembre del 91 e presedute dal boss Salvatore Rina, nelle quali vennero individuate anche altri obiettivi da colpire. In occasione della ricorrenza della strage, l'istituto professionale Polo Treffano, selezionata dal MIUR a rappresentare le scuole della regione Marche, nell'ambito del concorso nazionale Palermo Chiama Italia, ha organizzato una manifestazione-evento in ricordo di tutte le vittime della mafia, per un significativo momento di condivisione delle riflessioni con gli studenti sulle tematiche della legalità. Noi abbiamo partecipato con un progetto che si intitola appunto Gli Angeli della Legalità, che prevedeva il coinvolgimento di tutte le scuole del territorio fanese. Quindi intanto ringrazio i ragazzi di tutte le scuole, i loro insegnanti, i dirigenti scolastici, che mi hanno aiutato a realizzare questo momento per condividere assieme tutti i percorsi di legalità che durante l'anno scolastico le varie scuole hanno affrontato, perché la scuola nell'ambito di cittadinanza e costituzione parla sempre di legalità. Questo è proprio un momento di condivisione. All'iniziativa hanno preso parte anche studenti di altre scuole della città, tra cui l'Istituto Donati di Fossombrone. Come si potrebbe combattere questa tematica? Allora, innanzitutto vorrei precisare che la mafia è tutto ciò che lo Stato ha voluto. Per combatterla, come ha detto anche prima, come ha precisato la preside, bisogna stare uniti. La singola persona da solo non può combattere la mafia. E stando insieme, secondo me e secondo tutti gli studenti, potremmo sconfiggerla.